Salve, mi saluto da Napoli, sono Caterina con le qualifiche dell'investore speaker della società Skyward Community. Ancora chi non mi conosce sono a Tuna, vengo dalla Giorgia, con le qualifiche speaker della società Skyward Community. Sono mamma di tre bambini e di qui dove sono studenti abbastanza affermati che è una grande gioia per una mamma immigrata. Sono immigrata da tre anni e svolgo tutte le attività a distanza dal posto di mio lavoro. Ho anche esperienza di lavorare in strutture statali, 15 anni di esperienza nella comunicazione e nelle relazioni in ambito medico, ho anche 18 anni di gestione di imprese private ed esperienze imprenditoriali nel settore delle vendite e dei servizi. Ho una specialista certificato di lingua italiana a livello A2. E allora, avendo l'esperienza di comunicazione, mi ha aiutato a creare un gruppo dirigente insieme alla Community Skyward che è sviluppato in Francia, in Asia, in Polonia, Spagna, Italia, Germania e Israele. Allo stesso tempo del suo sviluppo, in questa fase del suo sviluppo, l'azienda ha offerto programmi di formazione certificati. Attualmente le specialità sono costruite e altamente pagate e il mio team attivamente coinvolto. Puoi immaginare che prima del 2014 le persone non stavano investendo letteralmente in nulla, era solo un'idea e il grande disinteressato lavoro del creatore del suo progetto. E anche ora ti presentiamo Skyward Community. Vi dico una cosa che personalmente io sostengo la tecnologia Skyway sperando in un futuro migliore. a queste compagnie ci sono vita lunga e in salute e lo sviluppo tecnologico già è disponibile per tutta l'umanità. Il quotidiano, la nostra vita, con le nostre prove, in pratica possiamo migliorare allora insieme con il tipo di questo trasporto. Veramente lo sviluppo tecnologico è un processo irreversibile dappertutto che già abbiamo in molti progetti che ci sono allora già abbastanza sviluppati e dipende di noi come lo usiamo, le loro capacità e per migliorare per la nostra vita. Sì? E ora ti presento, come si chiama aziende di support community, l'opportunità di offerte commerciali. Allora, il progetto di cui parleremo oggi è di proprietà di signor Anatoly Iuneschi con una storia di sviluppo 40 anni. La proprietà intellettuale del suo progetto è stimato in 400 miliardi di dollari. ed è dopo 40 anni di sviluppo che dal 2014 è diventata una grande azienda, un progetto che oggi ha le migliori offerte al mercato. Lo stesso Anatoly Iuneschi ha già 73 anni ed è sicuro a mila per cento che tutto questo è il corso della sua vita. E lui non ha rifiutato di realizzare questo progetto anche quando la sua vita è pericolo. Ma per chi che mi ascolta prima volta non tiene informazioni che la nostra azienda è sullo spazio. Vi dico che Skyway è un trasporto che si muove su rotali ad alta resistenza. Il progetto presenta una serie di vantaggi che distinguono la Skyway di altri modi di trasporto. La struttura della linea Sky si trova su sopporti che hanno poco spazio sulla terra e non influenzano l'ecosistema. I vaccini fisici e moleste rimarcono idratte. E allora il trasporto Skyway è controllato da un'autopilota. Ciò riduce il numero di potenziali incidenti. e la velocità del trasporto Sky consente di raggiungere velocità fino a 500 km in un'ora. E anche la costruzione della struttura linea Sky ogni stringa richiede meno denaro rispetto alla costruzione di qualsiasi altro trasporto. E' anche visibile con la sua bellezza. E abbiamo questa possibilità già visitarli e sentire la sua comunità per esempio. Allora, potresti chiedermi ma perché non ho un'auto ibrida? Si? Quindi ci sono siti che consumano le loro batterie che usano batterie caricate. Ma ti dico che quando carichi un'auto ibrida in pratica devi collegarla a una centrale elettrica che funziona di nuovo o a carbone o altra materia prima che si crea danni dalla natura. Noi stiamo partecipando in questo progetto perché vogliamo salvaguardare il nostro pianeta. I costi operativi sono 20-25 volte inferiori rispetto al trasporto su strada già esistente. la produzione di energia al numero perché genera energia solare che è più sufficiente e non dipende alla centrale. Anche c'è un stabilimento di produzione, un centro, Salsa e Misc, dove lavorano 3.000 ingegneri, istruttori e esperti che gestiscono ogni dettaglio del futuro trasporto con la massima precisione. E qui voglio dirvi che ogni dettaglio ha 50 o 100 anni di garanzia. E oggi questo è già disponibile. Allora quando devi costruire linea strinta di SkyWay per costruire consumi di 25 volte meno fino via perché non abbiamo bisogno di arricciare il paesaggio, versare acqua e rompere le rocce. Per costruire questa casa, questa strada, sono necessari solo i soliti supporti con un binario di fune per viaggiare su SkyTrasport e fornire servizi che consegna un trasporto più valore. Mi farebbe piacere costruire anche una casa, sì, linea di strinta e avere la sua proprietà e che spero che raggiungo. Allora, esistono 3 tipi di passacoli idrici, semiridici e elastici e ognuno dei quali ha il proprio tipo di binario. Come sappiamo, quando l'auto accelererà ad alta velocità, deve fare i conti con il flusso d'aria in via. Si chiama resistenza aerodinamica. Il nostro SkyTrasport è mille volte più facile da gestire grazie allo scappo affilato e in grado di raggiungere velocità di 500 km. In pratica, utilizzando questo trasporto, immaginiamoci che in realtà possiamo portare le persone alle cure di emergenza, più rapidamente ottenere interventi chirurgici urgenti in tempo, con un rapido trasferimento all'Aclin Francesa. Sicuro possiamo essere presenti e più velocemente assistere alle persone che servono aiuto, certamente. E allora, sappiamo che le strade gestionate d'aiuto, con la loro emissione, possono causare inquinamento e molte malattie. anche. Però, oggi già abbiamo una possibilità di superare questi problemi e con l'aiuto di sviluppo tecnologico migliorare tutto, migliorare i servizi e la disponibilità. Per tutti. Allora, abbiamo già ad alta velocità di unibus che può raggiungere velocità 500 km in un'ora e la sua capacità può spostare da 4 fino ai 24 persone e la produttività fino a 500 passeggeri e la produttività fino a 500 passeggeri. Unica per 6-8 persone con la velocità 150 km può raggiungere produttività a 50.000 passeggeri al giorno. Ancora abbiamo il trasporto di merci e che passiamo insieme con le strade dove camminano le macchine solide. sopra possono spostarsi i merci e non causare il traffico e questo sarà un punto di più una comodità della nostra vita. Unibus monorotaglia, questo è un trasporto urbano ancora, con la sua capacità da 3 fino ai 14 persone e la produttività viene a 50.000 passeggeri al giorno e tutti i paesi e tutte le città disponibili nel nostro futuro, in realtà, in presente. Allora, sappiamo che in realtà abbiamo anche un trasporto resistente che possono causare con la loro emissione in inquinamento e molte malattie, sì. E purtroppo ci sono anche paesi che dovranno mettere in atto leggi sulla sicurezza e che la mancanza di sicurezza è la causa di molti incidenti. Negli anni 70 esistevano questi problemi di inquinamento e sicurezza è nel 1978 signor Anatori Uneschi, scienziato, inventore, progettivo proteggista di navi volanti. Presento in suo primo articolo, scienziato dopo cinque anni di ricerca sull'atmosfera, che in cinque anni l'atmosfera è stata molto inquinata. Un continuare così per decenni avrebbe esposto la popolazione a sconosciute malattie e purtroppo adesso questa situazione esiste e la circolazione ha causato decenni problemi. una strada sopraffolata, mancanza di sicurezza, di rispendio di energia colossale e tante malattie che ancora stanno continuando o visibili o non sono visibili e la pandemia a volte creano una difficoltà. Per i propri interessi, i propri obiettivi, l'umanità ha danneggiato la natura e i paesaggi. Stiamo abbatendo foreste, allora prosciugando fiumi e baci nitrici, distruggendo montagne, sciogliere e quindi la natura risponde con i suoi disastri naturali. è vero, invece di solo guardare il nostro pianeta, quando ci comportiamo bene, abbiamo anche i risultati spiacevoli. Questo è il motivo per cui il skyway è più richiesto nella storia dell'esistenza umana. qui abbiamo già molti tipi di trasporto skyway, questi già erano programmati, certificati, costruiti e provati e progetti già realizzati e funzionano intorno all'università americana e anche la russia. Ogni partner della società Skyworld Community sta in una posizione revivizia. qui è possibile firmare un successore e anche ricevere entrere aggiuntive dal programma di partnership, di cui parleremo un incontro speciale, un incontro specializzato per gli interessati. Il vantaggio e il passino della nostra azienda sta nel fatto che è una forte unione di persone con obiettivi e valori comuni. I rappresentanti di oltre 200 paesi sono attivamente coinvolti in questo progetto per ottenere un reale benessere finanziario. E' già diventato un processo irreversibile e di cui parlano progetti già realizzati, pianificati e firmati. Tutto questo è già realizzato e ci aspetta quando vediamo dappertutto in giro tutta la nostra pianeta blu con le sue luci ancora blu. e le dediciamo dopo che anche molti vengano. Allora, c'è anche un sito www.uneski.ing.org dove puoi vedere un elenco completo di una serie di permessi e certificati che riflette 40 anni di duro lavoro di signor Androli Uneski al quale ha dedicato di maggior parte della sua vita e del suo lavoro. Se potete immaginare che 40 anni pensare solo di una questa cosa e pensare sempre a svilupparsi, sviluppare il tuo progetto e diventare quella macchina migliore nel mondo. Allora, un progetto così globale, ecologico, economico, così importante e necessario. Sì, penso che devi nascere. Allora, infatti io se non opererò con queste parole, però, al mio avviso, sì, di Uneski, cioè una persona che nasce una volta all'anno. E adesso ti dico che profitti hai quando entri nella nostra azienda. Dopo registrazione, quando finisci anche, fornisci anche la tua verificazione, ti apre tutte le funzionalità sulla tua camera, sulla tua platia forma, diciamo, e vedrai tutti i tuoi diritti e la possibilità, maggiore informazioni puoi aggiungere sulla tua pagina. E il tuo progetto è di nostro, per tutti chi ci siamo dentro in questa azienda, irate ai dividenti, prima cosa. Dopo guadagni dal programma di partner. Hai ereditarietà. Disposizione sulla restituzione del denaro. Diventi con un'ottima tecnologie. che partecipa a un progetto ambientale ampio e globale per salvare il nostro pianeta. Passi alla storia come piano propoecre capital per una vita spensierata. In realtà, quindi c'è un prodotto reale. Hai la possibilità di viaggiare per raggiungere Dubai, e non solo Dubai, dove che sarà costruita queste strade. Allora, la linea di stringa puoi viaggiare, visitare, e credere in più di cose che esistono, persone che veramente vogliono portare l'altro pianeta. E essere uno anche di noi. attestato di informazione in specialità impegnative e altamente retribuite. E ti dico che è più importante di tutto, d'accordo con i tuoi interessi, il valore nominale del tuo acquisto è direttamente proporzionale al numero delle tue azioni. Questo è una gioia per noi quando entriamo in un'azienda, in un business che ci offre molte opportunità. L'opportunità è già visibile dal primo giorno, e quando avrai più informazioni per te sarà più credibile che sei entrato in un'azienda più vero, più giusto, che nei suoi interessi, non a dire bugie e mettere i suoi mani in tasca qualcuno. No, questo è un progetto così pulito, ecologico, economico e così importante per noi. Personalmente per me è stata una grande gioia per rendermi conto di aver comprato 120.000 dollari per da soli 1.000 dollari. Cosa non avrei potuto fare nella vita reale. Cosa dovrei fare per risparmiare così tanto? E sarebbe impossibile. O in quanti anni potrei risparmiare così tanto? Per me che l'azienda Skyworld Cominti è diventata il senso e il supporto della mia vita. E allora, la cosa importante per te è che ci sia un prodotto reale che puoi visitare, toccare, sentire la sua velocità e comodità per te stesso. Non ho bisogno di essere paragonato a nessun'altra azienda. Questo è un unico progetto ecologico globale che ci occupa di opportunità interessanti. E anche Ecotecnopark è stato realizzato ed è operativo in Belarussia, nella città di Marina Gorka e negli Emirati Arabi Uniti. C'è una linea del nostro trasporto che opera per 15 km intorno all'università. Questa distanza comprende 21 stazioni. Ogni visitatore può sperimentare il conforto di questo trasporto e viaggiare con l'aiuto. L'auto, la mia stretta del futuro. Allora, personalmente per me e anche per i molti partner è diventato ancora più credibile che l'Italia sia tra i 200 paesi partner. E ora vi dico da dove prendiamo i nostri benefici. Allora, il 32% della quota delle tecnologie viene messo in vendita sotto forma di azioni. E con gli investimenti pubblici si effettua l'acquisizione di azioni e noi diventare i comproprietari di tecnologie innovative. E dopo che finisce il suo sviluppo e si sposta sul mercato mondiale, allora stiamo avvicinando maturazione ai dividendi. Allora, la società Skyward Community è stata registrata in Inghilterra come società europea nel 2014. Pertanto i diritti del single co-partner sono scritti e tutelati dalla normativa europea. Inoltre, l'ordine di partecipazione è inviato dal registro pubblico inglese all'indirizzo indicato. Dopo la registrazione della società, le sue fasi di sviluppo sono state suddivise in 15 fasi. Ad oggi abbiamo già completato la quattordicesima fase del suo sviluppo e siamo prossimi alla quindicesima fase e dopo che spostiamo sul mercato mondiale. Allora, già quest'anno la società Skyward Community è stata introdotta con il nome cambiato della tecnologia delle stringhe UNESCO. Allora, dopo completare verificazione, ti apri la pagina degli investimenti dove vedrai che i pacchetti azionari partono da 250 dollari e fino a 150.000 dollari a seconda dell'interesse degli azionisti. Un rappresentante di qualsiasi classe può investire. È possibile usufruire anche rate interne ad asso zero sul pacchetto azionario, perdere tempo per ottenere maggiori informazioni e fornisci subito altro invitato in link di registrazione o fissa un incontro per darti risposte più specifiche nella direzione che ti interessa. L'azienda ha sempre offerte specializzate per nuove persone che possono scegliere un pacchetto azionario che sarà più comodo per loro, per i suoi bimbi, studenti, eccetera, eccetera. E dopo il completamento, la qualsinicesima fase, si sta già spostando sul mercato mondiale, come vi ho detto, che è un processo che succederà in un futuro semplice. Allora, il trasporto, qui che abbiamo parlato oggi, sì, è importante che esiste da... Si adatta a tutte le condizioni climatiche. Il suo corpo, resistente alle radiazioni, converte l'energia solare e luce del giorno in elettricità e può letteralmente servirci senza sosta e ad alta velocità. Ciò che è importante per te è che alla fine c'è ancora la possibilità di unirti a questo progetto ambientale globale così unico e senza precedenti cambiare la sua vita in meglio. Skyway è un trasporto unico che servirà alla vita a milioni di persone, centinaia e anche a viaia di ettari di paesaggi, miliardi di animali e uccelli che permetterà a ciascuno. L'azienda Sky tiene conto dei nostri diritti secondo la legislazione europea e godiamo di tutti i diritti del comproprietario. Questo è un grande conforto per noi, la produttore e creatore, il signorato Junetsky, che presenta una relazione a nulla sul lavoro svolto. E anche la nostra azienda ha una relazione di denaro. Che cos'è questo? Se decidi improvvisamente di lasciare l'azienda, ti offre di aggiungere più 4% a determinate condizioni per restituire i tuoi soldi come attuatario. Questo significa che tuttavia se qualcuno dovesse lasciare l'azienda con questa richiesta, però questo precedente non è stato ancora rilevato. Il nostro trasporto, già abbiamo parlato su queste cose, funziona tramite i pannelli solari, anche il suo corpo può convertire energia solare in elettricità, lavorando praticamente senza sosta. Il termine di trasporto passeggeri può trasportare un numero molto maggiore in 24 ore rispetto ad altri trasporti esistenti. I termini di inquinamento siamo a zero, sostanze nocive non ci sono e quindi necessitano per la natura nocive. Devo dire ancora il nostro profitto è prima che ancora vi consiglio a entrare e capire di più, avere maggiori informazioni e trovare da vicino come funziona. E questo progetto ha soddisfatto tutte le aspettative del signor nato Iunetsky che ha avuto l'idea di costruire città lineari. Dove servirà il trasporto sky linea stritta e i nostri bisogni quotidiani e la natura saranno riservati? Questa è la nostra salute. Come immagine mostra chiaramente dove è stato realizzato questo progetto pilota quando è pulita l'atmosfera. In realtà è utile anche per la natura per noi, per tutta l'umanità e per tutta l'umanità. E insieme con questo si avvicinano i dividenti, guadagni dal programma di partner, l'ereditarietà, disposizione sulla restituzione del denaro, diventi con proprietario tecnologie e anche partecipa a un prossimo progetto ambientale ampio e globale per salvare il nostro pianeta blu. Passi alla storia. Finaltro poi hai capito a vivere una vita spensierata, hai la possibilità di viaggiare dappertutto, da tutto il mondo. Allora, ha testato di formazione in specialità impegnative altamente retribuite e altamente pagate. Il valore nominale, che per te è più importante, è il nominale del tuo acquistore direttamente proporzionale al numero delle tue azioni, questo volevo dire. Grazie. E mi ancora consiglio, quindi, io sostengo l'economia Skyway, sperando in un futuro migliore. Questo era la società Big Technology con le sue offerte opportunità e io sono stato attratto dalla qualifica dell'investore, speaker di questa società. Grazie per l'attenzione. Saluti a tutti. Ciao, ciao.